Benvenuti ragazzi in questo nuovo video oggi ci troviamo a Conscienti che è una frazione del comune di Ne ci troviamo qui perché è qui che c'è la sua sede municipale come proprio c'è scritto qua ovviamente avrete notato che il nome è molto corto infatti Ne detiene il record insieme ad altri due comuni italiani per il nome più corto di un comune in Italia il record è condiviso con il comune di Vo che tutti voi avete sentito parlare per il covid per i primi casi di covid in Italia in provincia di Padova e l'altro dovrebbe essere Re che è in provincia di Verbano, Cusio, Ossola in Piemonte e ci siamo anche al municipio di Ne tra l'altro qui davanti c'è monumento ai caduti per la prima e la seconda guerra mondiale e un gattino oh ciao e di fronte al comune ci abbiamo una stazione per fare la benzina se siete interessati e passati di qua sappiate che c'è anche questo monumento che non avevo visto ai caduti del lavoro sempre davanti al municipio posto per fare la spesa buono abbiamo un bel parcheggio coperto un bel parcheggio coperto e anche qui in teoria sopra sono i pannelli fotovoltaici anche perché qua ci dice la sua potenza, l'energia prodotta e come potete vedere c'è anche qui un casottino dove penso per ricaricare la propria auto comunque Ne è un comune italiano sparso quindi si colloca in più parti ovviamente ho visitato il posto dove c'è la sua sede municipale e conta più di 2000 abitanti ultima cosetta da vedere direi il campo da calcetto non può mai mancare come avete visto il comune è molto piccolo praticamente nulla da vedere se non i suoi monumenti lì vicino al municipio il video è finito ragazzi spero che vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video